Il mio amico Naka è scomparso nel Mega Pizzaplex e il mio obiettivo è trovarlo Ma per farlo dovrò avere a che fare con loro Gli Animatronics Scendiamo le scale, wow è incredibile questo posto è un centro commerciale veramente di lusso Mi sta arrivando una chiamata, rispondo Tico, Tico mi devi aiutare Ahia, ahia, ahia la voce Veloce, veloce, mi devi aiutare per favore sono qui, non so come uscire, non trovo più l'uscita Dove sei Naka, aspetta Vieni, non so, è un posto stranissimo, c'è un palco, ci sono dei tavoli Sei al Pizzaplex, sei al Pizzaplex Non lo so, non lo so, devi venire, devi impiegare Ti vedo, aspetta, attacco Ti ho, ti ho fatto, fino in mente Eh, sì, con caro Io non trovo più l'uscita, dobbiamo scappare da qui Perché scappare da qui, siamo appena arrivati Ma sono rimasto intrappolato qui dentro, devo andare via Perché intrappolato cosa, l'uscita sta qui, ma dove vuoi andare? E devi andare a casa No, 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 siamo appena arrivati, adesso non te ne vai Cioè adesso con calma, rimaniamo qui Eh, guarda tutto questo posto solo per noi E tu te ne vuoi andare, ma sei pazzo Eh sì, ma guarda lì cosa c'è Uh, no, vabbè Ma sei mosso pure, che bello, sono tipo gli animatronici, quei cosi Ne ha parlato il telegiornale, tutta la tv, ovunque, i social media Allora, io ci posso giurare su cosa vuoi tu, quelli si sono mossi Eh, l'ho visto, anche lui, sì, sì, è normale, sono animatronici No, io ho paura di queste cose, voglio andare a casa Ma che paura, sono dei cantanti, sono i glam rock animatronici, ma ti pare? Ma sono tranquillissimi, dai Guarda, aspetta, adesso ti canto pure una canzone, posso? Posso, sì, posso? Ok, un attimo E quando so, che quando io canterò, noi insieme canterò Ti mangio, ti mangio, ti mangio Che sta su, Naka, cosa succede? Te l'ho detto, vieni qui Vieni qui Vieni qui Oh, no, 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 aspetta, perché? Ma no, non dovevano camminare così tanto, però No, 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 non erano programmati per questo, dovevano rimanere sul palco Dio tovieta, scappiamo No, aia, aia, aia Ma stanno dicendo, mi vogliono mangiare, hanno detto No, non qui, non qui, no, qui, no No, non qui, stupida Ah, aia, 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 è finita, è finita, Naka, Naka, dove cavolo mi è portato? Dai, 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 dai Oh, cavolo, dove dobbiamo andare? Di qua, di qua, di qua, di qua, di qua Ok, c'è un posto qui, mi metto qua, magari non mi trovano Ok, Naka, uh, è passata, è passata, è passata quella animatronica Uh, anche l'altro, è finita, ci sono tutti Sorry, non ci sono per nessuno Naka sta scappando vai dove dobbiamo dare vieni qui qui chiudica tecnologie aspetta chiudo incredibile la tecnologia che vieni veri vieni qui vieni qui dove dove qui 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 vieni io mi scondevo qui perché mi inseguivano detto che dobbiamo scappare ma non pensavo che erano così questi animatronici io pensavo che nel senso erano tranquilli cioè voglio dire si muovevano ma non più di tanto invece loro ti mangio ti mangio e mi rincorrevano e mi colpivano così ma come sei malattia oh cavoli non dimmi che possono venire anche qua in questo posto cos'è c'è un generatore di energia poi non lo so qui c'è scritto sta folle quindi penso che qui non possono entrare ok qui dice tu roxy raceway è tipo raceway tipo non so una pista una roba del genere dobbiamo andare tipo di qua quindi non lo so non mi sono avventurato più di tanto ok di qua no qua cose strane golf ma cosa ma che cosa stai dicendo ok ma sono ma queste scale non finiscono mai io sono stanco le gambe ho capito che sono una tigre però ok naga ci sei si sono qui ok ma questo centro commerciale ma voglio dire ma quanto non ho speso per farlo o cavolo naka naka sono ci sono è che cavolo ce l'ho seguiti cavolo dove siamo enorme cos'è è una pista è una pista guarda aspetta prendiamo di go kart ci sono di go kart che figo bellissimo cos'è una una pista tipo mario kart no 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 ci sono non dimmi che ci stanno inseguendo dove si guida no e vabbè no 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 naka naka eh cavolo 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 eh niente niente vado ovunque sbatto ovunque ah la 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 di qua uh grande 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 uh guarda 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 uh che curva stretta che ho fatto e taglia traguardo che succede a quell'animatronico ma si è baggato oh no 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 di nuovo un'altra corsa no un'altra corsa no 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 avevo vinto io ma che cavolo naka eh sono qui tiro sono uscito fuori dalla pista sì meno male meno male funzionano questi garage funzionano non funzionano no vabbè me ne vado naka 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 dai salvati salvati vai andiamo via andiamo via andiamo via dobbiamo trovare un altro modo da me non ci seguono vai 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 mi butto giù dalle scale in una maniera incredibile tra poco muoio anche allora vai scappiamo eh sì vabbè ma questi sono fuori di testa e niente no qua non c'era nulla dobbiamo tornare in quel posto dove c'era quel generatore a trovare un posto per nascondermi ma dove mi nascondo cosa cosa fuma era una non so nemmeno io come ho fatto noterei la differenza ma cioè si vede una da dove sei arrivata che succede senti il loro odore ci stanno adorando ci stanno usando dovrebbero essere qui ma c'è un muro ci hanno scoperti c'è vabbè ma come fanno a un'idea 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 naka eh sì proviamoci dove troviamo queste batterie però eh lo so aspetta devo seminarli di nuovo uh come li sto seminando eh niente al generatore naka torna al generatore arrivo ci vediamo lì eh sì dove cavolo sei prendeteli aiaia 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 aiaiaia sono potentissimi questi mangiateli ok siamo al generatore no sono al generatore naka dove sei cavolo dobbiamo farlo insieme non ce la faccio solo ok naka però dobbiamo rimanere da soli al generatore dobbiamo seminarli in qualche modo dai vieni qui Naka, 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 vai su, dai, 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 dai Ora che non ci stanno guardando Dove sono? Mettiamoci qui Dovrebbero essere lontani Non ci troveranno Non ci troveranno Senta sempre l'odore questo No, aspetta Non è qui Proviene dall'ascensore Di grotto sta funzionando Sì, lo so, sono un genio Dai, dai, scapiamo Ora che non ci vediamo Vai, vai, vai Al generatore Andiamo, andiamo A questo è P.P. Ci hanno ingannati No È il cara Vai, vai, chiave, 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 chiave Vai, vai, ho chiuso, chiuso, chiuso Andiamo Quello che vogliono, ecco, non possono più entrare, perfetto Allora, il generatore, io non sono esperto di elettricità e tutto il resto Tu forse sì, magari Dobbiamo trovare una batteria, visto che qui ci sono tutte batterie Bisogna mettere una batteria qui, presumo Uh, c'è una batteria, aspetta, ok Quindi devo posizionare una batteria qui Sì, ma attento che sembra molto vecchio questo generatore E quindi cosa dovrei fare? Prova, metti Tipo mi devo tenere a un po' di distanza? Sì, magari uso oggetti in plastica, così sai, l'elettricità non passa, sai, quelle cose belle Ok, ok, la metto qui, sicuro? Sì, vai Ok Oh! E vabbè, ma qua c'è altro che elettricità, qua si sono morti Vabbè, dovrebbe aver funzionato, andiamo a controllare Ok, però vai prima tu avanti No, va bene Ok, dai, 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 speriamo che ha funzionato perché sennò è la fine Io sono qui Però, aspetta, non si muovono Aspetta, aspetta, vediamo Ok Non hanno più gli occhi rossi? Infatti Eh, già Ok, però ho un po' paura, eh Tutto Guarda, guarda Sì, ma stai attento e stai lontano Guarda come sono dei fatti incredibili Vabbè Ehm Poi sono fatti benissimo Guarda cosa fanno bene Lei guarda per terra, tutto ok Sembra tutto ok Ah! Naka! Ce l'abbiamo fatta! Sì, ma cosa ce ne facciamo di loro ora? Ce li lasciamo così? Se lo scoprono non ci picchiano qui? Cosa facciamo? Ma io direi di scappare Cioè, è l'unica Beh, hai ragione Ma chi se ne frega, dai Scappiamo E poi Si attiveranno quando noi non ci siamo No, è semplice Giusto, giusto Ma prima Sì, ma l'uscita dov'è però? Allora, Naka L'uscita È lì È aperto Sei l'unico Che non l'ha bene Senti, allora Sto da cercare tutto il tempo Non l'ho trovata Tu sei l'unico Vabbè, senti, ascolta Ti roto adesso Vuoi cantare Così ti sentono E si svegliano Vengono qua Ci uccidono Siamo Ah, sei il solito guastafeste Tranquillo Li abbiamo immobilizzati Ora Una piccola canzone Voglio dire Che vuoi che sia Allora Questo pezzo Si intitola Audace per spicace E un giorno di notte Io mi sveglio Domani mattina Il sole è sereno Domani ci sono Tutti Insieme Cosa ti avevo detto Di grattando Voglio dire Cioè Era una piccola canzone Non è possibile Muoviti Perché Io volevo fare il cantante Delle canzoni inglesi Però nessuno capiva Che cosa dicevo